Ragazzi un saluto da Dottor Palma, se dovete andare all'estero a fare i denti andate direttamente da chi fa i denti belli o che stavo navigando qua su internet e vedo queste foto, ma io queste foto le conosco, questa è una clinica albanese che ringrazio perché significa che apprezza queste fotografie, ma queste sono le mie fotografie, sono praticamente rubate dal mio profilo, cioè queste sono le fotografie, questa è una pubblicata il 22 ottobre 2021 e queste sono la stessa foto pubblicata l'anno dopo, il 2022, cioè questa è la mia foto, il mio profilo e queste sono le foto, è la stessa identica, questa è rubata, questa è un'altra foto mi ha rubata, guarda anche la stessa sequenza, scrollando, andando ancora più indietro, ci sono anche altre foto che io conosco e sono queste, cioè se devi andare all'estero vai direttamente da chi fa queste cose, da chi ha fatto queste foto, eccola qua, guardala, questa è la fotografia pubblicata pubblicata 30 ottobre 2020, vedi qua la data, e questa è la fotografia pubblicata il 5 aprile 2022, io ringrazio perché ogni volta che rubano le mie foto, le foto del mio gruppo, delle mie cliniche, significa che vale, significa che sono riconosciuti come bei i lavori questi, il problema è che poi andando a scrollare quelli che sono i lavori fatti, poi la qualità non è quella che ci si aspetta, questo è un paziente per esempio gli hanno rimesso i denti, ma i denti incisivi sono dritti, completamente dritti, non seguono i labbi inferiore, e sono anche storti, c'è il rischio che, come dire, vai da McDonald e trovi questo panino al posto di questo altro panino, cioè se tu cerchi questo panino vai direttamente da chi lo produce, queste sono le foto di dottor Palmas, ok, e sta in Moldava e Romania, non si trova in Albania, questi sono dei denti finti, in plastica, tra l'altro storti, guarda la linea mediana è qua, ma la linea mediana del naso è qui, sono storti, tutti spostati da un lato, c'è il rischio che tu vai lì a tratto da queste fotografie che sono mie, di dottor Palmas, e poi alla fine ti ritrovi in bocca dei denti storti, anche questi sono storti, guarda dove è la linea mediana del viso e dove stanno i denti, mi ha impressionato questo profilo perché si vendono con le mie fotografie poi dei casi, delle cose che non rispecchiano minimamente la qualità che viene promessa, guarda questa paziente addirittura che hanno fatto i denti color ceramica di lavandino, ok, i denti non sono naturali così bianchi e sono tra l'altro molto lunghi in maniera normale, i denti non sono così lunghi, sembrano i fanoni di una balena, con la carnagione scura come in questo caso si sarebbe dovuto usare una 2, a 3, un colore più chiaro, meno chiaro, se no sembra un africano in galleria, quello è l'effetto finto che chiunque poi ti vede riconosce poi i denti che sono a parte storti ma anche finti, vedi che sono tutti qua sul lato destro i denti, quindi fai attenzione se devi curare i denti all'estero, ci sono cliniche come questa che prendono in prestito le fotografie di chi fa dei buoni lavori, se no ruberebbero queste fotografie, ma quei buoni lavori li fa Dottor Palmas in Moldavia, Romania, quindi grazie alla Flydent, turismo dentale in Albania, per aver preso in prestito, senza avvisarci le nostre fotografie, ripeto queste qua sono le fotografie di Dottor Palmas, questo è denti fissi senza osso, se andate su questo profilo, andate nelle fotografie e andate in basso, a parte trovate centinaia di foto, ecco che troverete anche appunto le fotografie in questione, ma che sono pubblicate in data antecedente, fate attenzione!